Oggi portiamo alla vostra attenzione una notizia che ha scosso profondamente il mondo della danza. Prima di entrare nel dettaglio, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Veronica e Andreas stanno attraversando un momento di dolore indescrivibile a causa di una tragedia che ha colpito tutti noi. Tre giovani ballerini, sotto la loro guida, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale in Arabia Saudita. Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolai Sposito stavano viaggiando verso Riad per partecipare all'inaugurazione di un nuovo teatro, ma non sono mai arrivati a destinazione. L'auto su cui viaggiavano è precipitata da un promontorio per cause ancora da accertare. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo, non è stato possibile salvarli. Veronica ha condiviso il suo immenso dolore sui social media, esprimendo incredulità e sofferenza per questa perdita incolmabile. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli sull'incidente, inclusa la causa del sinistro. Se desiderate lasciare un messaggio di cordoglio, vi invitiamo a farlo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun aggiornamento e rimanere informati sulle ultime notizie.